Ciao a tutti, eccoci in classe con un'ulteriore fantastica puntata sulla rivoluzione francese. Oggi è una bella puntata, una puntata piena di colpi di scena perché siamo un po' nel cuore del nostro discorso sulla rivoluzione francese. Oggi parleremo della dittatura giacobina e della fase finale quindi della rivoluzione perché affronteremo gli ultimi anni della fase repubblicano-democratica, quindi l'ultima fase della Repubblica Democratica imposta da Robespierre e poi affronteremo velocemente alcuni aspetti invece dell'ultima fase della rivoluzione, gli ultimi cinque anni che invece riguarderanno una serie di problematiche della Repubblica, quindi la fase repubblicano moderata. E alla fine del nostro racconto si affaccerà in lontananza un ragazzino molto ambizioso che già farà vedere qualcosa in questi anni e che si chiama Napoleone Bonaparte. Grazie a tutti. 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 Luglio 1973 vengono arrestati anche attraverso la forza dei Sanculotti che sulle piazze strillavano Girondino, traditore del popolo e quindi si instaura un nuovo periodo, l'ultimo periodo della fase repubblicano-democratica, osserverà la dittatura giacobina, soprattutto impersonata dal personaggio che si vede alle mie spalle, cioè Maxime Hulien Robespierre. Ora, due parole quindi su che cos'è questo periodo e come si caratterizza la dittatura di Robespierre. Alcuni storici sostengono che la dittatura di Robespierre sia stata una prima forma di totalitarismo. Che significa totalitarismo? Allora, a differenza delle, diciamo, tirannie che abbiamo finora studiato, il totalitarismo lo affronteremo molto meglio l'anno prossimo e tornerà molto il nostro racconto, sarà, per esempio, caratterizzerà moltissimo il Novecento. È un sistema politico che non si basa semplicemente sul dominio di uno o una piccola classe di persone sul resto della società, ma si basa, diciamo, questa forma di dominio potrebbe caratterizzare anche un tiranno, un re assoluto, ok? Che governa e accentra su di sé il potere senza voler coinvolgere il popolo, senza voler discutere democraticamente le decisioni, ok? Sospendendo quindi un po' tutti quei ragionamenti sulla divisione dei poteri che abbiamo fatto, invece, nella fase, per esempio, iniziale della rivoluzione. Ecco, a differenza di una semplice forma di tirannite, il totalitarismo è animato da qualcosa in più, cioè la volontà di cambiare, barra educare, barra, direi, plagiare, la mentalità delle persone. Il totalitarismo è un sistema che cerca di cambiare il modo di pensare dei propri cittadini, ok? O dei propri sudditi, a seconda del punto di vista. Cioè, entrare nel privato, entrare nel loro modo di vedere le cose, entrare nel loro modo di vedere la cultura, il loro modo di studiare a scuola, il loro modo di vedere la religione, ok? Non vuole semplicemente dominare, schiacciare un popolo, ma lo vuole, in un certo senso, convincere che le idee che animano questo tipo di regime siano quelle giuste, siano nell'interesse del popolo. Facciamo un riferimento molto veloce, senza aprire parentesi lunghe. Durante il fascismo, il sabato fascista, che cos'era? Era un tentativo di prendere i giovani e portarli a fare delle manifestazioni sportive, culturali, dei cori, per indottrinarli, per farli sentire parte della causa del fascismo, parte del sogno italiano, mi capite? Ok? Quindi, i libri di testo delle scuole erano riscritti, vengono riscritti dai regimi totalitari per inserire tutta una serie di nozioni, di informazioni, anche a volte un po' distorti, che vanno a enfatizzare il ruolo, per il caso del fascismo dell'Italia, vi ricordate l'idea di Roma, dell'impero, la grandezza del genio italiano, ok? A che serve tutto questo? Serviva durante il fascismo per creare consenso, creare appoggio, creare un senso di appartenenza. Ecco, in un certo senso, nella storia, il primo sistema che si può avvicinare, ovviamente con enormi differenze, ragazzi, perché chiaramente i sistemi del Novecento di diffusione e di anche, come dire, manipolazione dell'opinione pubblica, sono decisamente più forti, più invadenti che non i sistemi settecenteschi. Nel Novecento ci sarà il cinema, la radio, poi andando avanti, oggi abbiamo internet, la televisione, cioè i regimi hanno una modalità molto più pervasiva, molto più, come dire, puntuale, molto più granulare per entrare nelle nostre menti, laddove lo vogliano. All'epoca, ovviamente, è un primo tentativo, ma è il primo tentativo di forgiare una nuova mentalità francese, filo giacobina, filo rivoluzionaria, ok? Quando parlo di dittatura, in realtà questa non parte come una dittatura dei giacobini. I giacobini avevano l'appoggio del popolo, ok? Non immaginiamoci Robespierre che arriva dicendo, oh, 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 il governo io vi uccido tutti. All'inizio, quando i giacobini prendono il potere, effettivamente sono convinti di parlare in nome del popolo, ok? L'influenza forte dei sanculotti, che sono appunto gente del popolo, popolo minuto di Parigi, bottegai, salariati, piccoli artigiani, è molto forte nell'ottica giacobina. I giacobini si sentono quindi di incarnare le volontà profonde della Francia, non l'interesse di un partito. Mi seguite? Robespierre in particolare, la figura di Robespierre, può essere compresa solo se si vede da questo punto di vista, se si ha sempre un duplice livello di lettura. Robespierre come uomo sinceramente appassionato e convinto di parlare con la volontà generale, per la volontà generale. L'influenza forte di Robespierre è proprio l'interpretazione, come dire, molto estremizzata del pensiero di Rousseau. Vi ricordate che diceva Rousseau, no? Se emerge una chiara volontà generale, lo Stato si regge proprio sulla base del volere trasversare del popolo, che deve quindi sovrastare qualsiasi forma di opposizione, detto in altri termini. Se io esprimo la volontà generale e tu la pensi diversamente da me, la tua non è un'opinione accettabile, perché la tua è semplicemente un'opinione che mira a fare un interesse tuo, o di fazione, o di partito, o addirittura ancora peggio, personale, schiacciando quindi la volontà generale. Mi capisci? Quindi si passa da un confronto politico a un confronto con un possibile traditore della causa. E' molto sottile questo, ma lo dovete capire, perché sarà poi una chiave di lettura importante per alcune forme di totalitarismo anche futuro. Cioè, in un certo senso, Robespierre, un po' invasato, se vogliamo, da questa convinzione, credeva di essere in buona fede quando faceva alcune scelte molto forti, molto anche, diciamo, antidemocratiche. Ok? Il riferimento così, diciamo, totalizzante alla filosofia russoiana spingeva a sopprimere alcune, diciamo, libertà che oggi noi poniamo alla base della democrazia. Perché, lo ripetiamo, se si immagina di essere portatori di una voce popolare, di un interesse generale, ogni opinione politica contraria non può che, deduciamo la differenza, essere interesse particolare. Ok? Quindi inaccettabile, quindi da sopprimere, quindi da schiacciare, quindi da non prendere in considerazione. Non c'è, quindi, in quest'ottica, una possibile confronto democratico tra opinioni entrambe lecite. Ma c'è una convinzione che vox populi, vox dei, ok? C'è la voce del popolo e la voce di Dio. E qualsiasi altra visione è una visione di parte, una visione interessata, una visione da traditore della causa. Ok? Quindi quello che bisogna fare è piuttosto avvicinare tutti a un bene comune, avvicinare tutto il popolo a un progetto comune, avvicinare tutti a un progetto politico comune. Tutti insieme in un progetto politico e chi sta fuori è un traditore. Chi sta fuori è un nemico della patria. E quindi, ragazzi, chi sta fuori va punito, chi sta fuori va carcerato, chi sta fuori va ucciso, va ghigliottinato. Mi capite? Altrimenti non si capisce. Altrimenti sembrerebbe che c'è un pazzo al potere che inizia a tagliare le teste random. Non è così. Forse era anche pazzo a un certo punto perché non si rendeva conto che questa ottica stava completamente sfuggendo di mano. Quando applichi la violenza, le condanne arbitrarie, la ghigliottina, capisci che, voglio dire, qualche domanda te la dovresti fare se è veramente la volontà del popolo che sta realizzando. Però, ecco, questo voglio farvi capire. Robespierre credeva di sì. Robespierre era convinto, chiamato l'incorruttibile, che la sua linea politica fosse il bene della Francia. Non il proprio bene, non il bene dei Giacobini. Ma che i Giacobini si dovessero sacrificare, tra virgolette, e dovessero sacrificare ogni buonsenso, ogni pietà, ogni perdono, ogni compromesso per il bene della rivoluzione. Se voi capite questo, avete capito il racconto che stiamo per fare. In tutto questo fervore, non si arriverà subito a questo, però intanto siamo arrivati alla presa di potere dei Giacobini, prima di parlare di cosa fanno al potere, ecco, piccola parentesi, stavamo dicendo che era in fase di redazione, ormai da qualche tempo, la nuova Costituzione, la Costituzione Repubblicana, giusto? Abbiamo visto la prima Costituzione che era monarchio costituzionale, ma adesso c'è la Repubblica. Quindi serviva una Costituzione Repubblicana. Ecco, appena dopo la presa di potere di Robespierre e dei suoi Giacobini, viene emanata la nuova Costituzione. Una Costituzione super avveniristica, ora leggeremo alcuni articoli veramente molto avanzati, per l'epoca, ma forse anche per oggi, che però, segnatevi subito, non verrà applicata. Cioè Robespierre dirà, ottimo, c'è una nuova Costituzione, ottimo, siamo arrivati finalmente a concludere il suo lunghissimo percorso, ma ora non serve. Ora non serve perché ci sono io. C'è bisogno di una Costituzione, perché dobbiamo prima consolidare la Rivoluzione. Dobbiamo prima essere sicuri che non ci siano colpi di Stato, nemici che ci invadono di potenze straniere, gente che magari è a favore, vi ricordate, nelle campagne per un ritorno del re, ok? Oppure del ritorno dei cattolici, problema della religione. Dobbiamo quindi, mi seguite, prima unificare la Francia sotto il progetto rivoluzionario e dopo applicare la Costituzione. Quindi il progetto è consolidiamo la Rivoluzione e poi eventualmente dopo applicheremo la Costituzione. Però intanto vi dico che così, anche per curiosità, ma anche perché è storicamente molto importante, anche se non sarà mai applicata, conteneva dei valori e dei principi che sono interessantissimi. Vi dico quali sono. Allora, primo, suffraggio universale senza più distinzione tra cittadini attivi e passivi, però con l'esclusione di chi? Delle donne. Vi ricordate che Robespierre su questo? C'era Olive de Gouges che provava a spingere per una cosa ancora più avveniristica, ma non sono ancora i tempi maturi per pensare a qualcosa del genere. Secondo, il diritto al lavoro e all'assistenza da parte dello Stato? Diritto al lavoro, ragazzi. Ognuno ha diritto di avere un lavoro e se non ce l'ha lo Stato lo deve aiutare. È una roba che quasi sfiora il socialismo, ok? Terzo punto. Diritto, dovere all'insurrezione. Nel caso di violazione di diritti del popolo. Cioè, il popolo non solo ha diritto, come nella Costituzione anche degli Stati Uniti, di poter prendere le armi se c'è un governo dispotico. Ha il dovere di farlo. È un dovere. Come andare a votare? Il dovere è quello di prendere le armi e combattere contro un governo dispotico. Diritto-dovere. Ragazzi, tra diritto e dovere c'è una bella differenza, eh? Significa che hai diritto di farlo, ma lo devi fare. Se non lo fai, sei un traditore della patria. Interessante. Cioè, un dovere dell'insurrezione. Cioè, dimmi, una Costituzione che dice hai diritto a prendere le armi se io sono, diciamo, troppo autoritario. Quarto punto. Subordinazione del potere esecutivo al legislativo. Importantissimo. È una, quindi, una forma di parlamentarismo. Il Parlamento è più importante del governo. Eh, ragazzi, anche qui si potrebbe ragionare molto. Oggi noi in Italia siamo in una democrazia parlamentare, ma, ragazzi, vi assicuro che gran parte delle leggi sono decreti-leggi fatti dal governo e sono ratificati passivamente dal Parlamento. Quindi gran parte della vita politica del nostro Stato, italiano, 2023, ma anche negli anni precedenti, non solo di quest'ultimo governo, bypassa completamente il dibattito parlamentare. Agendo con un strumento come il decreto-legge che dovrebbe essere straordinario, ma viene invece applicato per qualsiasi legge. E quindi, questo, diciamo, è anche un modo per farvi riflettere sul fatto che nel 1793, siamo nel giugno, eh? 24 giugno del 1793 viene approvata questa Costituzione. ma poi sospese immediatamente da Robespierre. Ok? Poi, diritto all'istruzione. Diritto all'istruzione, ragazzi. Cioè, chiunque debba avere, qualsiasi cittadino francese, deve avere diritto ad essere istruito dallo Stato. Eh, notevole. E, ultimo, dovere dello Stato di promuovere la felicità. Anche questa cosa è bellissima. Cioè, lo Stato ti deve aiutare a diventare felice. A essere felice. Cioè, quindi, una visione completamente spostata sui cittadini. Non è lo Stato che è finalizzato a se stesso, ma è finalizzato a te. E tu, anzi, sei obbligato a buttarlo giù se lui non fa la tua felicità. Cioè, capite bene che una cosa è che Robespierre dice, aspetta, bellissimo, ma adesso non è il momento. Al contrario di tutto ciò, invece, Robespierre sostanzialmente e Giacobini andranno verso una sospensione di tutte le, diciamo, dei più elementari diritti partecipativi e, fino alla caduta di Robespierre, che avverrà in breve tempo in realtà, assisteremo a un periodo, invece, sostanzialmente che è contrario un po' a questi principi. Cioè, una forma sostanzialmente dittatoriale, ok? Ora vedremo come, gestito da un comitato di salute pubblica, quindi molto ristro, di pochi uomini al potere, ecco, tutti questi bei principi non saranno applicati, ok? Pensate che questa Costituzione fu addirittura messa a referendum e fu approvata con 1.800.000 sì e 17.000 no, ok? Va bene? Quindi fu anche messa a votazione e il popolo francese l'ha approvato. Vi leggo solo, velocemente, alcuni, diciamo, degli articoli, molto velocemente. Uno, lo scopo della società è il bene comune. Questa è la prima fase. Lo scopo della società è il bene comune, ok? Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e i prescrittibili, ok? Questi diritti sono l'eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Tutti gli uomini sono uguali per natura e di fronte alla legge e poi, insomma, ce ne sono tanti, ma, diciamo, tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici, quindi non ci sono cittadini serie A e B, non più gli elegibili, non elegibili, i attivi, i passivi, tutto passato. I soccorsi pubblici sono un debito sacro, l'istruzione è un bisogno di tutti, la sovranità risiede nel popolo, la sovranità è unica, indivisibile, imprescrittibile e inalienabile. Insomma, sono molti questi principi che, cosa sono questi? Sono dei principi che sono stati inseriti nella dichiarazione dei diritti del 1793 come preambolo alla Costituzione. Quindi c'è una nuova dichiarazione dei diritti, simile, ma più radicale di quella, ovviamente, dell'89, e una nuova Costituzione. Cosa succede a questo punto in Francia? C'è questo colpo di Stato, abbiamo detto, di Robespierre e di Suoi Giacobini. Chiaramente la Francia non sta a guardare, non sono tutti d'accordo con quello che sta succedendo. Allora, intanto, nel giugno sempre, quindi stiamo parlando sempre di questo periodo del 1793, in alcune parti, quelle più refrattarie, il sud e l'ovest della Francia, ci sono delle rivolte federaliste, ok? Dove era più forte la presenza girondina. I girondini erano espressione delle città portuali, delle città atlantiche, che speravano molto nel governo forte dei girondini, che facevano gli interessi di quella parte della Francia. Adesso che sono stati incarcerati, distrutti, e c'è una dittatura dei Giacobini, ovviamente quella parte della Francia insorge. E in particolare, alcune città, soprattutto Lione e Tolone, addirittura cosa fanno? Consegnano le proprie navi agli inglesi, cioè aprono i porti, sono dei porti, e iniziano a pensare, io mi schiero con gli inglesi, in modo tale da contrastare questa dittatura dei Giacobini. Perché, appunto, ripeto, sono zone che invece vedevano assolutamente come un sopruso quel colpo di Stato fatto da Robespierre a Parigi. Benissimo. Ora, il Comitato di Salute Pubblica, che abbiamo detto è l'organismo preseduto da Robespierre, che si è insediato immediatamente a seguito del colpo di Stato, e che di fatto è il nuovo governo della Francia rivoluzionaria, non sa bene come gestire la situazione. Perché, di fatto, queste città sono adesso aiutate dagli inglesi, hanno le navi degli inglesi nei porti, sappiamo la flotta inglese quanto è potente, quanto è, come dire, un paese che già aveva inferto diverse sconfitte alla Francia nel corso del S700, e quindi provano un assedio. Un assedio, per esempio, il famoso assedio di Tolone. Arrivò a un certo punto un giovane generale che veniva dalla Corsica, era poco più di un ragazzo, e dirà a uno dei membri del Comitato di Salute Pubblica, un tal Barrà, Barras, scritto Barras, io sono l'unico forse in grado di riuscire a sconfiggere gli inglesi a Tolone. Ho un piano per conquistare, riprendere il porto dopo questi inutili mesi di assedio. Questo giovane ufficiale corso si chiamava Napoleone Bonaparte, e vista anche un po' la disperazione dell'epoca e la incapacità di fare, diciamo, un'azione efficace per riprendere il porto di Tolone, fu inviato per dirigere le operazioni. E, guardate un po', in poco tempo, riuscì a fare una, diciamo, celeberrima impresa e a riconquistare il porto di Tolone. Come farà Napoleone a fare questo? Era poco più di un ragazzo. Napoleone era un artigliere, era un grande, grandissimo esperto di cannoni, e lui diceva, sempre con poca modestia, di essere già a quell'età il più grande esperto di cannoni del mondo. E infatti, in quell'occasione, avrà un'intuizione molto grande, vi dico così, per fare un po', anche riprendendo un film che spero andremo a vedere, Napoleon, inizierà a pensare che era impossibile distruggere le navi degli inglesi dal porto, perché gli inglesi avevano preso anche possesso, e anche i francesi, diciamo, che si erano ribellati e si erano schierati con gli inglesi, di una specie di fortificazione più in alto. E allora, l'idea di Napoleone è questa. Prendiamo i cannoni che sono tutti distrutti dopo questo assedio, li fondiamo, creiamo dei cannoni piccoli, degli specie di mortai, avete visto come sono i mortai che fanno queste specie di colpi a parabola, no? E invece di colpire il porto, colpiamo la roccaforte, ok? Con questi, diciamo, mortai, visto che nella roccaforte ci sono dei cannoni molto grossi e molto potenti e dall'alto, con i cannoni degli inglesi, se conquistiamo la roccaforte, abbatteremo i navi degli stessi inglesi, mi seguite? Quindi, attaccano di sorpresa la roccaforte, mentre gli inglesi si aspettavano un attacco sul porto, conquistano la roccaforte e con i cannoni degli inglesi che erano puntati contro di loro li girano contro le navi e fanno fuoco sulle navi degli inglesi, ok? Questa tattica un po' geniale, Napoleone la utilizzerà in diverse occasioni, cioè l'utilizzo molto sapiente e improvviso dell'artiglieria. Quindi, segniamoci, giovane, no generale, era appena un ufficiale, ovviamente questa azione l'ho mise in luce agli occhi del comitato, che iniziò a pensare, però, questo giovinetto sa il fatto suo, quindi segniamoci, questa cosa tornerà nel nostro racconto. Continuano a non accettare il colpo di Stato fatto dai giacobini e in particolare nel luglio del 1693, questa diciamo che abbiamo detto era di giugno del 93, la rivolta federalista, luglio, quindi siamo per un mese dopo, un esponente giacobino molto famoso, Marat, vi ho detto si chiamava l'amico del popolo e aveva questo giornale, era, come dire, un attivista anche vicino ai Sanculotti, un ex cordigliere, eccetera, eccetera, venne ucciso da una donna, che veniva a trovarlo sotto mentite spoglie, quindi c'è anche un famosissimo quadro di David, l'assassinio di Marat, penso l'abbiate visto, è lui sulla vasca da bagno con la mano così, molto famoso, ok, venne ucciso da una donna che veniva dalla zona dei Girondini, proprio come, diciamo, attentato contro questo potere, strapotere giacobino. ecco, questo omicidio di Marat fu per Robespierre veramente la goccia che fece traboccare il vaso, quindi si può dire che da luglio 1783 in poi inizia il periodo cosiddetto del terrore, cioè l'accentramento dei poteri nelle mani di Robespierre e soprattutto la legge del sospetto. Chiunque era sospettato di poter tramare contro la rivoluzione, uccidere o andare contro gli interessi diciamo della leadership giacobina, veniva immediatamente senza processo condannato alla ghigliottina, ok? Ora arriveremo al terrore, intanto vediamo però le riforme che fanno i giacobini, fanno delle riforme molto importanti, la prima più importante di tutti era quella che veniva richiesta a viva voce dal popolo, questa riforma era la riforma del Maximum, ok? La legge del Maximum volevano quindi, vi ricordate uno dei grandi scontri con i Girondini era proprio se concedere una calmiere generalizzato sui beni di prima necessità, i beni di consumo, ok? i Girondini vi ricordate erano contrari perché questo avrebbe comportato un tradimento della legge della domanda e dell'offerta, loro erano liberisti, no? E invece i giacobini volevano difendere la capacità d'acquisto del popolo che era la loro forza, i sanculotti e alla fine la prima legge che fanno è proprio quella, un calmiere, quindi abbattono forzosamente il prezzo del pane, il prezzo diciamo di tutti i beni di prima necessità, ok? Secondo, iniziare a vendere in piccoli lotti le terre di tutti i nobili che erano andate via, vi ricordate che i nobili alcuni erano scappati in Austria facendo il tifo per l'intervento degli austriaci? E allora i giacobini requisiscono le terre dei nobili e li vendono a piccoli pezzi, perché a piccoli pezzi? Perché non volevano fare come già era successo con la costituzione civile del clero ancora prima quando erano state diciamo requisite le terre della chiesa, vi ricordate? Le terre della chiesa erano state requisite ma vendute poi soprattutto a borghesi, questo volevano evitarlo e quindi per evitare che arrivassero dei borghesi a comprare grandi lotti fanno dei lotti piccoli che erano più facili da acquistare per i piccoli contadini, cosa che succederà diciamo solo in parte. Altra cosa importantissima, la leva di massa, una leva obbligatoria di tutti i maschi tra i 18 e i 25 anni, tutti i maschi francesi tra i 18 e i 25 anni vengono arruolati, perché nel frattempo c'era ancora la guerra, non era mica finita, anzi al contrario, era la Francia che vuole a questo punto esportare i principi della rivoluzione nelle zone, nelle aree limitrofe. In particolare sull'esercito vi dico una cosa importante, Carnot, che è stato anche uno scienziato, fu incaricato di riorganizzare e modernizzare sempre con un'ottica illuministica, scientifica, la razionalità, il lume della ragione, il lume della ragione deve andare anche nell'esercito, abbiamo detto che prima l'esercito non era per niente ben organizzato, mi seguite? Vi ricordate? Non era ben organizzato perché? Perché i nobili stavano lì eppure se erano bravi o cattivi generali comunque contava molto la provenienza della famiglia, del sangue, no? Ecco, qui si dice no, i nobili non c'entrano più nulla, deve fare carriera, attenzione segnate per questo importante, chi è più bravo a fare la guerra, chi dimostra con delle imprese, con delle idee, con il comportamento, con l'eroismo, con la capacità di essere un buon soldato, un buon ufficiale. Anzi, saranno i soldati ad eleggere i loro ufficiali. Ragazzi, è una rivoluzione questa. I soldati sceglieranno chi è più bravo, più adatto a guidare loro in guerra. E quindi, ragazzi, secondo voi, si muore più volentieri quando c'è qualcuno di cui ti fidi che hai votato tu che ti conduce e ti dice facciamo quest'impresa alla baionetta o se invece c'è il marchese Pinco Pallino che dall'alto del suo cavallo dice voi andate schiantatevi contro il nemico. La prima. Perché vi dico tutto questo? Perché Napoleone sarà proprio uno di questi ufficiali che proveniendo sì da comunque un'altra borghesia ma si farà via via amare, riconoscere, identificare in modo quasi a un certo punto al di là sovrumano arriverà ad avere una fiducia sovrumana da parte dei suoi che erano quindi in grado di fare delle cose che nessun altro esercito poteva fare neanche lontanamente. Avevano uno spirito di sacrificio, uno spirito di immedesimazione e questa è l'idea di Carnot l'idea che se sei tu a sceglierti il tuo rappresentante di classe gli dai più fiducia se il rappresentante di classe lo legge il preside perché magari è quello che a lui gli sta più simpatico non è detto che a te ti vada bene questa scelta anzi è facile che visto che l'ha scelto lui allora se lo piangesse lui non mi interessa a me capite? Ok meritocrazia la riforma sulla meritocrazia abbiamo detto che i giacobini volevano andare verso una riforma anche della mentalità del popolo francese queste sono le forme le prime forme di totalitarismo allora una delle prime cose da fare è decristianizzare desacralizzare la Francia la religione non è un altro modo per allontanare i francesi dall'obiettivo della rivoluzione dai valori dell'illuminismo ci siamo abbiamo sempre detto che l'illuminismo combatte comunque la chiesa e la chiesa aveva imposto ad esempio un calendario il calendario con i santi ok e gennaio e febbraio i giorni della settimana ecco questa cosa viene considerata del tutto irrazionale ok perché un mese che è luglio perché è Giulio Cesare agosto augustus giusto che senso ha razionalità i mesi si devono rinominare ribattezzare richiamare ai fatti della natura quindi ci sarà a settembre c'è la vendemmia e settembre fino al 21 ottobre è vendemmaio vendemmiaio scusate vendemmiaio a ottobre novembre c'è la bruma e quindi è brumaio ok non so inverno c'è la neve e quindi dal dicembre al 19 gennaio è nevoso poi dal 20 gennaio al 18 febbraio c'è la pioggia e quindi è il mese che si chiama piovoso poi da febbraio a marzo cosa c'è c'è molto vento no e quindi si chiama ventoso sì poi primavera dal 20 aprile al 19 maggio ci sono i fiori e quindi ci si chiamerà fiorile poi dal 20 maggio al 18 giugno pratile poi non so per esempio dal 19 giugno al 18 luglio che cosa si fa si prendono le messi di grano no quindi i messi d'oro e non so dal 18 agosto al 18 settembre ci sono i frutti e quindi frutti d'oro autunno è vendemmiaio brumaio e frimaio inverno è nevoso piovoso ventoso primavera germile fiorile pratile estate messi d'oro termi d'oro e frutti d'oro e soprattutto ricordatevi termi d'oro adesso ci arriveremo sarà celeberrimo ok ragazzi al di là per farci due risate oggi chiaro che questa cosa però ti dice tutto cioè non è interessante per se ricordarsi i nomi dei mesi si fa anche un po' sorridere perché ve ne parlo per farvi capire il loro punto di vista cioè loro dicono aboliamo qualsiasi tipo di mentalità antica di tradizione e ritorniamo tutto sulla natura sull'empirismo sulla scienza in questa cosa sull'agricoltura e la stessa cosa ad esempio i giorni della settimana non sono più sette perché sette c'è il sistema metrico decimale saranno quindi dieci tutto diviso in dieci insomma rifanno un calendario completamente diverso valido solo per la Francia rivoluzionaria e poi anche vedremo per le Repubbliche Sorelle che è basato su principi più matematici più biologici più scientifici insomma meno tradizione che è giovedì giove venerdì venere non ha senso ok o anche i santi San Francesco San Tommaso noi non crediamo più nella religione giusto? quindi ci sarà i santi sono i scienziati per esempio o i grandi poeti i grandi illuministi quelli erano santi e quindi fanno dei nuovi santi ragazzi avete capito il senso qual è? sostanzialmente riformare la mentalità la seconda cosa che faranno molto importante è proprio la decristianizzazione della Francia e qui ci sarà una spaccatura perché? perché Robespierre dirà allora è chiaro che dobbiamo togliere ogni riferimento della religione cattolica dalla Francia perché? perché la Chiesa è un nemico perché la Chiesa è l'oscurantismo perché la Chiesa abbiamo detto fino alla morte è il contrario dei principi illuministici della rivoluzione però qui ci sarà una spaccatura perché Hebert scritto H-E-B-E-R-T segnate proprio perché sarà importante Hebert un altro esponente ancora più di sinistra del mondo giacobino suggerirà di andare verso l'ateismo ok? dirà noi dobbiamo non decristianizzare decattolicizzare la Francia ma proprio diciamo togliere la divinità cioè le persone devono iniziare a ragionare in termini scientifici non più la fede la fede è di per sé una forma di ignoranza qualsiasi essa sia Robespierre dirà no caro mio questa è una posizione troppo estrema le persone hanno bisogno di credere in qualcosa di più grande di qualcosa di più un senso della vita mi seguite? un senso magari una sopravvivenza dell'anima dopo la morte quello che noi dobbiamo fare è non togliergli Dio ma togliergli il Dio della Chiesa togliere la Chiesa togliere il potere della Chiesa non togliergli la fede in un qualche Dio però deve essere un Dio illuminista vi ricordate quando vi ho detto il Deismo degli Illuministi che credevano un po' ragazzi il Dio di Cartesi un Dio un Dio orologiaio un Dio architetto supremo ecco creeranno la religione dell'essere supremo cioè un Dio e quindi creeranno delle Chiese dedicate al culto dell'essere supremo delle feste nazionali che invece di essere Pasqua o Natale saranno le feste dell'essere supremo questo essere supremo è un po' il Dio degli Illuministi un Dio ragione un Dio architetto un Dio cartesiano che dà la spinta al mondo e come un grande orologiaio un grande architetto sta sopra un po' governa un po' dall'alto i destini dell'umanità ma senza intervenire con i miracoli con i preti con la Domenica Messa che ti dicono cosa fare e cosa non fare ok? quindi secondo Robespierre la religione ha un valore morale cioè dice le persone fanno meglio politica si impegnano di più nella vita se hanno l'idea poi di avere anche una certa benevolenza da parte di quest'essere supremo magari non esiste però è importante che le persone pensano che esiste pensino che esista ok? mi capite? perché così si comportano meglio altrimenti c'è il rischio di una troppa forte radicalizzazione delle posizioni un po' relativiste ognuno inizia a pensare come vuole ognuno pensa capito troppo a se stesso in un certo senso questo Dio così aiutava a essere tutti uguali a essere accomunati da un unico padre che dall'alto ci vede tutti insomma dice così si comporteranno meglio ok? saranno più vicini alla rivoluzione quindi togliere la chiesa sì e la religione no mentre Hebert insisteva molto per l'ateismo ok? mentre diciamo Robespierre aveva una posizione più pragmatica diciamo più di realpolitik questo se vogliamo è il lato anche interessante il lato bello perché sono anche divertente di riforme e comunque anche riforme molto socialmente forti utili sicuramente a favore del popolo a favore dei più poveri però abbiamo detto che dopo l'omicidio di Marat si aprirà il periodo del terrore che cos'è il terrore? il terrore è un modo abbastanza esplicito che già all'epoca fu come dire utilizzato per chiamare questo periodo che è contraddistinto da un'azione di repressione spietata da parte di Robespierre in particolare e dei suoi più fedeli collaboratori del Comitato di Salute Pubblica di ogni forma di dissenso come Robespierre definì il terrore l'adozione verso gli avversari politici interni delle stesse procedure che di solito vengono applicate nei confronti dei nemici in situazioni di guerra un nemico in situazioni di guerra io lo affronto con l'esercito con ogni modo e ogni arma quindi io affronterò un avversario politico con la stessa ferocia con cui affronterei un avversario in guerra una potenza straniera capite che cosa significava in quel momento essere dissidente rischiare la ghigliottina allora un'altra definizione è il terrore è un'emanazione della virtù senza la virtù il terrore è funesto senza il terrore la virtù è impotente cioè la virtù senza l'arma della ghigliottina è impotente non riesco a convincere le persone a comportarsi bene senza la minaccia della ghigliottina viceversa la ghigliottina senza la virtù è un terrore incontrollato ma in realtà purtroppo diventerà un terrore incontrollato perché pensate che ne in questo anno verranno uccise ragazzi sembra incredibile 40.000 persone con la ghigliottina voi capite che significa ghigliottinare 40.000 persone i girondini saranno decimati ad esempio Brissot sarà ghigliottinato a ottobre del 1793 i lealisti tutti coloro quindi che erano leali al re che volevano un ritorno della monarchia saranno colpiti tutti i sospettati all'interno anche diciamo alle volte della stessa compagine dei giacobini gli stessi vedremo che poi il terrore la fase finale sarà detta grande terrore il grande terrore sarà la fase di escalation per cui Robespierre inizierà a non fidarsi più di nessuno Maria Antonietta sarà ghigliottinata nell'ottobre del 93 ok l'ultimo periodo chiamato grande terrore vedrà due importanti condanne a morte sia dal punto di vista della destra dei moderati sia dal punto di vista degli estremisti cioè Robespierre aveva dei moderati più a destra all'interno sempre dei giacobini il cui diciamo esponente principale era Danton ok Danton è un esponente stiamo parlando dell'aprile del 94 che stava cercando a tutti i costi di convincere Robespierre a uscire dalla guerra a far finire la guerra e quindi sarà accusato di tradire gli interessi della Francia di cospirare con le nazioni nemiche o addirittura fu processato anche perché sospettato di volersi approfittare di volersi approfittare degli esiti della guerra di arricchirsi con dei commerci con le potenze straniere quindi Danton fu ghigliottinato mentre la fazione degli arrabbiati cosiddetti si chiamavano così arrabbiati erano ancora più estremi di Robespierre l'esponente principale era Hebert che appunto stava invece insistendo per una riforma religiosa atea sarà ucciso nel marzo del 94 ok Hebert era anche ragazzi il capo dei sanculotti quindi capite che oltre alla differente visione della riforma religiosa c'era da parte di Robespierre il diciamo sospetto che Hebert potesse diventare una minaccia perché troppo forte chi aveva i sanculotti in mano aveva il popolo di Parigi armato che poteva per esempio organizzare un colpo di stato insomma capite bene che siamo arrivati a un punto in cui Robespierre non si fida neanche dei suoi amici e collaboratori e quindi anche lo stesso comitato di salute pubblica anche lo stesso partito dei Giacobini viene colpito al suo interno da una forma di repressione di condanna a morte di sospetto non tutti saranno uccisi alcuni messi in prigione insomma ci sono varie forme di repressione però abbiamo detto 40.000 ovviamente tra gli uccisi tra questi 40.000 dovete computare anche la repressione della rivolta in Bandea ok quindi molti anche contadini o popolani che abbiamo già studiato altra volta abbiamo detto non è che sarà sospetto tutti quei morti saranno fatti nel corso del tempo ecco nei 40.000 sono anche molti considerati traditori della patria diciamo pensate che nel 1794 sarà addirittura un ghiottinato la Boisier grande scienziato grande chimico ok questo per dire quanto la legge del sospetto non guardasse in faccia nessuno anche personaggi obiettivamente lontani magari dalla politica delle congiure ma solo perché sospettati di essere amici o di poter essere in combutta con uno o con l'altro ok quindi ragazzi il periodo del terrore sembra un vortice senza fine il Robespierre con l'uso della ghigliottina con l'uso del carcere con l'uso di repressione politica sostanzialmente elimina sia tutti coloro che sono anche soltanto sospettati di avere idee contrarie o di poter remare contro i suoi disegni e le sue riforme ma anche chi semplicemente è sospettato di poter dire un complotto sospettato appunto di voler far passare una mozione diversa insomma Robespierre inizia ad avere veramente un senso dell'accerchiamento chiunque tra i suoi collaboratori anche o anche all'interno del comitato di salute pubblica poteva essere oggetto di repressione oggetto di accusa e questo chiaramente però se da un lato aveva consolidato la sua leadership e la sua dittatura dall'altro però è anche l'inizio della sua fine perché con l'uccisione di Hebert Robespierre di fatto aliena da sé il sostegno dei Sanculotti abbiamo detto che Hebert aveva un grandissimo ascendente sul popolo di Parigi sul popolo armato di Parigi che in un certo senso aveva rappresentato anche uno dei punti di forza del potere giacobino quindi i Sanculotti iniziano a vedere Robespierre come un nemico che d'altronde aveva ucciso uno dei loro rappresentanti dall'altro campo l'uccisione di Danton sostanzialmente aliena da Robespierre l'appoggio dei moderati tra i giacobini e naturalmente ci sono i girondini i deputati di origine borghese i lealisti le campagne le campagne ancora resistenti a tutto ciò che era stato il programma di riforma giacobina e tutti i cattolici insomma sono molti in Francia a iniziare a pensare che il tempo di Robespierre e della dittatura giacobina doveva finire inoltre proprio in questo periodo che mentre la guerra va avanti stiamo nel diciamo verso fine giugno del 94 il 26 giugno del 1794 l'esercito francese ha una grande vittoria nella città di Fleurus in Belgio e di fatto questa vittoria sancisce l'occupazione del Belgio il Belgio è piegato si parla di Belgio intendendo ovviamente i paesi bassi austriaci e quindi una parte importante della guerra sembra essere risolta favorevolmente quindi diciamo questo fatto curiosamente è un boomerang per lo stesso Robespierre perché in molti iniziano a pensare che ormai non era più necessaria una stagione politica che prevedesse un pugno di ferro così forte un leader così spietato una diciamo gestione così accentrata del potere visto che anche il pericolo imminente diciamo della guerra e della coalizione sembrava almeno diciamo provvisoriamente sistemato e risolto ecco quindi a valle di tutto ciò e di questa escalation del grande terrore e della vittoria diciamo in Belgio viene organizzata segretamente una congiura una congiura contro Robespierre e contro i suoi fedelissimi una congiura che vede unita l'ala moderata e quella estremista diciamo del partito giacobino insieme anche a personaggi diciamo i sopravvissuti dei gruppi girondini e tutti gli altri avversari politici che comunque ancora esistevano contro Robespierre ecco quindi si arriva al 9 termidoro che sostanzialmente è il 27 luglio del 1794 con un colpo di stato di fatto Robespierre Saint-Just e altri fedelissimi vengono accusati dalla convenzione vengono messi sotto stato d'accusa vengono arrestati e immediatamente il giorno dopo giustiziati quindi un colpo di stato che sostanzialmente colpisce Robespierre e i suoi fedelissimi e che di fatto non passa neanche per le vie legali e processuali ma arriva semplicemente ad applicare allo stesso Robespierre i sistemi fortemente repressivi antidemocratici violenti dittatoriali che lui stesso aveva utilizzato i Sanculotti non reagiscono a questo colpo di stato i Sanculotti si erano sentiti traditi e decidono che Robespierre non è più un interlocutore affidabile per loro e quindi con la caduta di Robespierre di fatto finisce la fase repubblicano democratica e si aprirà quindi dopo il 9 di Termidoro cioè il 27 luglio dell'anno del 1794 una nuova fase quella repubblicana moderata della rivoluzione francese quindi siamo nel fine luglio del 1794 si apre con la caduta di Robespierre una nuova fase la fase repubblicano moderata o repubblicano conservatrice questa fase è la fase più lunga della rivoluzione francese abbiamo detto la rivoluzione francese dura 10 anni dal 1789 al 1799 e quindi la terza fase che parte da diciamo circa metà del 94 durerà diciamo complessivamente oltre 5 anni dal 94 fino al 99 però racconteremo soltanto alcuni aspetti di questa ultima fase perché durante questa fase assisteremo all'emergere di un nuovo personaggio un protagonista proprio della storia contemporanea e quindi protagonista dei nostri prossimi racconti che però poi appunto verrà trattato a parte cioè Napoleone Bonaparte ma noi siamo ritorniamo un attimo con la mente a questi giorni a quello che succede con la caduta di Robespierre quindi dall'agosto del 94 inizia una nuova fase una fase in cui tutte le fazioni che erano state combattute schiacciate da Robespierre prima tra tutti i girondini e poi anche i realisti o i cattolici cioè tutti i nemici della rivoluzione accentrata di Robespierre del totalitarismo di Robespierre e dei giacobini chiaramente con la caduta di Robespierre applicano a quelle che sono le ultime diciamo roccaforti del potere giacobino una repressione pari e contraria un terrore pari e contrario a quello subito da Robespierre nell'ultimo anno durante il 94 il periodo che diciamo successivo a Robespierre questo periodo diciamo repubblicano moderato repubblicano conservatore sarà caratterizzato anche questo da un terrore che si chiama la terrore bianco ok terrore bianco perché bianco è il colore del cristianesimo normalmente della religione cattolica proprio perché si vuole distinguere dal terrore giacobino in un certo senso via della matrice diversa terrore bianco perché è ispirato proprio da quei preti re frattari e da diciamo dal clero che era stato così schiacciato così osteggiato vi ricordate che addirittura era stato di fatto da Robespierre messo quasi fuori legge nella riforma della diciamo della chiesa no vi ricordate la religione dell'ente supremo ecco quindi terrore bianco realizzato da da tutti i gruppi che erano stati prima invece oggetto del terrore di Robespierre c'è un ribaltamento dei ruoli ma non finisce la violenza e quindi viene smantellato il potere dei giacobini chiusi i club in tutta la Francia quindi i giacobini diventano fuori legge vengono chiusi i club politici c'è una reazione non soltanto popolare e dei girondini ma anche della cosiddetta jeunesse dorée cioè la gioventù dorata nobili altiborghesi tutti coloro che volevano un ritorno a una situazione più tranquilla volevano finire la fase dell'estremismo rivoluzionario delle riforme così popolari della legge del maximum di tutte le come dire riforme giacobine così sbilanciate dal punto di vista sociale e popolare e aprire quindi una fase sempre repubblicana ma molto più moderata ok la prima cosa che viene in mente è ci vuole indovinate un po' una nuova Costituzione esatto perché la Costituzione che peraltro Robespierre non aveva mai fatto entrare in vigore come vi avevo già detto è una Costituzione estremamente quindi la seconda Costituzione era una Costituzione comunque molto radicale no? che prevedeva il suffraggio universale prevedeva la centralità del Parlamento insomma molte cose una serie di acquisizioni il diritto all'insurrezione il dovere all'insurrezione tutta una serie di concetti che nello stato attuale delle cose si vuole invece come dire placare non applicare quindi se Robespierre non l'ha applicata perché non la riteneva ancora opportuna visto il momento fluido e la necessità di consolidare il potere giacobino la nuova diciamo classe politica che succede a Robespierre non la vuole applicare perché invece la considera troppo di sinistra troppo estrema c'è un po' un'alleanza tra tutti quelli che sono vi ricordate i preti refrattari tutti coloro che non avevano giurato alla nuova Costituzione alla nuova Repubblica e ai valori della rivoluzione i girondini naturalmente che prendono le loro rivincite erano stati oppressi ma non erano completamente sterminati e quindi sostanzialmente c'è questa fase di stabilizzazione interna che porta diciamo all'elaborazione di una nuova Costituzione e anche però alla prosecuzione della guerra quindi sono queste due cose creare una nuova Costituzione e portare avanti la guerra partiamo dalla guerra perché diciamo c'è poco da dire in quanto in quanto che due tra le varie potenze che si erano schierate con questa prima diciamo alleanza contro la Francia cioè Russia e Olanda escono dalla guerra ci sono dei trattati di pace favorevoli alla Francia perché comunque nonostante tutti gli scossoni diciamo la guerra continua all'estero a essere favorevole mentre rimangono due grandi nemici che saranno poi i nemici non solo della Francia rivoluzionaria ma anche appunto poi di quello che succederà con le imprese napoleoniche cioè Austria e Inghilterra ecco Austria e Inghilterra rimangono in armi mentre Russia e Olanda escono con dei trattati di pace in questi anni per quanto riguarda invece la terza Costituzione allora nel 1795 una diciamo Costituzione repubblicana una Costituzione però che prevede un suffraggio ristretto quindi si ritorna ragazzi a una Costituzione molto simile a quella iniziale quindi monarchico costituzionale con la differenza però che il re naturalmente non c'è più quindi è una Costituzione repubblicana ma moderata con un suffraggio ristretto e con alcune caratteristiche cioè soprattutto ispirate alla divisione dei poteri quindi se il filosofo di riferimento della fase di Robespierre della fase giacobina era sicuramente Rousseau con la sua teoria della volontà generale probabilmente il filosofo di riferimento di quest'ultima fase è Montesquieu cioè sì la Repubblica sì la divisione dei poteri con però un equilibrio un bilanciamento una politica moderata ok ora il potere esecutivo questa è forse la cosa più importante è affidato al direttorio il direttorio è composto da 5 persone che in qualche modo si alternavano al potere e mentre il potere legislativo è affidato a un Parlamento bicamerale con due camere una entrambe elette a suffraggio censitario quindi si abbandona il suffraggio universale della Costituzione del 93 e sono il Consiglio dei Cinquecento e il Consiglio degli Anziani quindi ripetiamo il potere di fatto è in mano al direttorio questa è la fase diciamo in cui il protagonista del racconto sarà il direttorio di 5 persone si chiamano così perché venivano chiamati direttori sono come 5 ministri con molti poteri e poi ci sono due consigli eletti a suffraggio ristretto uno dei protagonisti di questo periodo è Paul Barras lo abbiamo già sentito nominare perché era stato colui che aveva affidato al giovanissimo Napoleone l'impresa di Tolone sarà uno dei leader voglio dire del direttorio perché sarà l'unico che non sarà mai sostituito mentre gli altri come dire erano un po' a rotazione le presenze nel direttorio per evitare un accettamento di poteri Paul Barras anche grazie alla sua abilità politica riuscirà in questo periodo sempre a rimanere nel direttorio quindi rimanere sempre ai vertici del governo comunque ragazzi la situazione è paralizzata perché il direttorio di fatto è debole cioè la situazione che diciamo di questi anni di questi 5 anni è una situazione che se da un lato nella politica estera ha questi successi e per fortuna alcune potenze abbandonano la guerra all'interno la situazione è spaccata cioè ci sono diversi tentativi di rivolta di congiura tre in particolare congiure poi di carattere diverso da destra da sinistra la prima nel 1795 la prima di queste congiure congiure contro il direttorio chiaro che in una situazione così incerta dove ci si sono avvicendati tanti eventi con l'ascesa e la caduta di Robespierre tutto sommato nel giro di un anno poco più di un anno si è creato un voto di potere cioè questo direttorio non da tutti viene vissuto come una istituzione stabile affidabile ok sia da destra che da sinistra si cerca di prendere il potere di approfittarsi di questo vuoto di leadership e quindi primo nel 1785 una cosiddetta congiura dei realisti i realisti erano un gruppo di persone che di fatto stava tentava tenta un colpo di stato per ripristinare i Borbone al potere i realisti cercano di prendere il potere e sono una minaccia sono una minaccia perché potrebbero essere anche appoggiati da potenze straniere cercano di ripristinare il potere togliendo il direttorio e rimettendo come potere esecutivo il re ok c'è un problema perché non si capisce come arginare questa protesta e allora Barra che si ricordava di un giovinetto un ragazzo che ormai aveva però già dimostrato di essere un abilissimo comandante c'è questo Napoleone Bonaparte che aveva già inviato a Tolone con successo allora si ricorda di lui e propone a Napoleone di mettersi a capo della guardia nazionale per contrastare i realisti fermami questa colpo di stato fermami questa rivoluzione dei realisti fermiamo la crescita l'escalation evitando che altre potenze si approfittino e quindi tramino contro la Francia visto che c'è già la guerra aperta per ripristinare il re Napoleone effettivamente con un cinismo notevole con una certa ferocia riuscirà a stroncare con la forza dei cannoni questa ulteriore sommossa e anche in questo caso aver affidato a Napoleone il governo dell'operazione si rivelerà una strategia azzeccata mi avete seguito? quindi nuovo successo per Napoleone certo un successo ottenuto con il sangue e con una certa freddezza sempre legata anche questa all'uso sapiente dell'artiglieria dei cannoni fa fuoco contro questi diciamo personaggi stroncando completamente sul nascere questa rivolta secondo 1796 la congiura degli eguali molto interessante è una congiura ordita da alcuni personaggi due in particolare da ricordare uno è Babèuf chito Babèuf e un altro Filippo Buonarroti parente di Michelangelo Buonarroti italiano sono due pensatori politici che di fatto sostengono una rivolta di carattere noi diremmo socialista cioè vogliono prendere il potere per creare uno stato repubblicano ispirato a criteri di eguaglianza sociale per questo si chiama la congiura degli eguali cioè vogliono abolire la proprietà privata dicono che sostanzialmente qualsiasi forma repubblicana dove però siano ancora contemplate queste grandi differenze sociali non può assolutamente mai essere veramente equa veramente giusta e neanche stabile cioè dicono tutta questa instabilità deriva dal fatto che comunque c'è il popolo affamato che comunque ci sono coloro che hanno ancora troppo e coloro che hanno troppo poco abbattiamo queste differenze siamo tutti uguali la Costituzione la dichiarazione dei diritti dell'uomo dice che gli uomini sono uguali e allora devono essere anche a livello sociale ed economico basta proprietà privata ok naturalmente anche questa verrà scoperta e verrà sbaragliata con la forza dell'esercito anche questa volta interverrà l'esercito e infine ci sarà nel 97 quindi una nel 95 quella dei realisti una del 96 la congiura degli eguali vabbè sarà giustiziato per la parentesi nel 97 e una nel 97 fatta direttamente dal direttorio cioè il direttorio fa un colpo di stato per sospendere la Costituzione e per prendere nelle proprie mani il pieno potere il direttorio dice tutte queste rivolte queste rivoluzioni mi hanno dimostrato che sono troppo debole questa repubblica diciamo parlamentare non funziona e viene percepita come debole chiunque la vuole attaccare la vogliono attaccare da destra quelli favorevoli al re ma anche da sinistra quelli favorevoli a una specie di rivolta e rivoluzione sociale e quindi il direttorio fa un colpo di stato e sospende la Costituzione quindi vedete queste Costituzioni che vengono approvate vengono subito nuovamente sospese perché c'è di nuovo la necessità di prendere su di sé tutto il potere il potere attraverso cosa? L'esercito quindi segnatevi che questa fase vede la centralità dell'esercito non solo ragazzi contro le potenze straniere perché ricordiamoci che l'Austria e l'Inghilterra sono ancora in armi ma anche e soprattutto per tenere a bada le insurrezioni e le rivolte interne si sta al potere solo se l'esercito sta dalla tua parte un'ultima parola sulla politica estera ok sulla politica estera abbiamo visto già alcuni successi della Francia ma come viene percepita la Francia e la rivoluzione francese fuori dai confini francesi allora all'inizio quando appunto è stata presa la bastiglia è stata emanata la dichiarazione dei diritti dell'uomo questa diciamo novità veniva vissuta come una certa certo favore ok in molti in Europa iniziano a pensare che effettivamente questo sia un punto di non ritorno e iniziavano anche a pensare che alcuni dei valori e dei principi potessero essere applicati anche diciamo negli stati limitrofi e iniziano quindi a sorgere alcuni club anche club giacobini in giro per l'Europa ok uno dei più famosi è proprio in Liguria questo Filippo Buonarroti veniva proprio da un club giacobino in Liguria che poi insomma poi si trasferirà in Francia per la congiure degli uguali però poi con il colpo di stato di Robespierre e con il terrore la percezione in Europa cambia alcuni iniziano a pensare che la Francia e i francesi abbiano fatto il passo più lungo della gamba cioè i valori erano giusti le idee erano giuste ma si stava esagerando stava diventando una vera e propria carneficina una dittatura un totalitarismo cioè i valori positivi erano completamente annebbiati anacquati all'interno invece di un sistema che sembrava tradire questi valori e accentrava tutto nelle mani ad esempio di Robespierre quindi ad esempio un tal Edmund Burke uno storico in quegli anni scrive una paragone tra la rivoluzione francese e la rivoluzione inglese dice vedete gli inglesi con la gloriosa rivoluzione hanno comunque ottenuto una monarchia parlamentare senza spargimenti di sangue i francesi invece per abbattere l'ansia regime hanno innescato un escalation di violenza che ha portato poi verso la dittatura quindi i valori erano giusti la pretesa era giusta forse all'inizio c'era bisogno di questa violenza ma poi la situazione è scappata di mano ok questa diciamo è l'opinione di alcuni anche in Europa che iniziano quasi a temere un escalation che potrebbe riguardare tutto fin dal 1972 comunque la convenzione aveva diciamo decretato che la Francia avrebbe garantito fraternità e soccorso a tutti i popoli che vorranno recuperare la loro libertà ok e per questo diciamo quindi l'idea di esportare questi valori della rivoluzione esportare la libertà l'uguaglianza la fraternità eccetera eccetera esportarla anche con la forza delle armi però ecco quindi qui si apre una rivoluzione ma dei valori positivi dei valori rivoluzionari di questo tipo come fanno a essere esportati con con la propaganda o anche con l'esercito però diciamo quindi sorgono alcuni club giacobini in alcune parti dell'Europa si inizia a tifare per l'intervento dei francesi e questo intervento avviene ok la Francia effettivamente in queste campagne militari riesce abbiamo visto a invadere a conquistare alcuni territori e allora lì la percezione cambia quando i francesi arrivano molti più simpatizzanti si manifestano proprio a favore dei francesi cioè quando i francesi invadono un territorio molti iniziano a tifare per le novità iniziano ad apprezzare diciamo così i valori della rivoluzione e quindi nel 1793 95 la Francia aveva inglobato il Belgio ok e il più importante proprio nel 1795 la nascita in Olanda anch'essa occupata dai francesi della cosiddetta Repubblica Batava Batava era un termine diciamo antico con cui si chiamavano le popolazioni che vivevano in quei paesi quindi diciamo l'Olanda diventa l'una la prima delle cosiddette Repubbliche Sorelle cioè si crea una Repubblica in Olanda una Repubblica ispirata ai valori della rivoluzione e diciamo l'idea dei francesi è tutti i paesi conquistati come il Belgio e l'Olanda creare delle nuove Repubbliche Sorelle che però sono anche dei satelliti della Francia ok Repubbliche Sorelle che però naturalmente sono legate e seguono politicamente l'impostazione rivoluzionaria francese ok quindi 1795 conquista dell'Olanda ma nel 1796 si apre un problema occorre frenare l'offensiva dell'Austria cioè il direttorio aveva conquistato alcuni territori l'Olanda il Belgio aveva esportato questi valori della rivoluzione ma verso l'Austria c'è sempre permane un forte esercito che non si vuole arrendere e allora bisogna iniziare una nuova fase una campagna militare contro l'Austria e questa campagna militare dovrà essere articolata in due il grosso dell'esercito dovrà puntare dritto contro Vienna contro gli Asburgo mentre un esercito parallelo dovrà cercare di diciamo dar fastidio e conquistare i territori di Asburgo in Italia vi ricordate che c'era ad esempio il Ducato di Milano e tutto il nord Italia che era sotto l'influenza degli Asburgo quindi degli austriaci l'esercito principale va contro l'Austria un esercito secondario va in nord Italia a conquistare alcuni diciamo territori che comunque sono in mano agli austriaci e indovinate un po' a chi verrà affidata questa impresa serviva un generale abile spregiudicato capace tanto da potervi affidare anche un esercito inferiore perché abbiamo detto che il grosso dell'esercito principale andrà contro l'Austria serviva qualcuno che fosse in grado anche con un esercito diremmo noi un po' raccattato meno numeroso un po' messo su all'ultimo momento di fare un'impresa di questo tipo e andare a togliere questi territori all'Austria chi sarà questo generale questo giovane generale appena diventato generale perché aveva appena aiutato il direttorio contro i realisti Napoleone buona parte ma qui si finisce però finisce la storia della rivoluzione francese e inizia un'altra storia perché inizierà l'ascesa di Napoleone che con la campagna contro diciamo la campagna d'Italia inizierà la sua carriera la sua ascesa il suo predominio che lo porterà presto a cambiare la storia della rivoluzione francese ma anche dire è la storia di tutta l'Europa però questa è un'altra storia buon Natale a tutti e ci vediamo dopo le vacanze con Napoleone